Buonasera, benvenuti a tutti. Grazie per essere intervenuti così numerosi. Speriamo che sia un incontro molto informativo e anche un po' che vi dia degli spunti da portare a casa per andare magari ad approfondire alcune delle questioni che oggi, lo premetto, riusciremo a malapena sollevare perché sono molto complesse. Io sono Marina Petrillo, sono signora editor di Open Migration e attraverso fatti, dati, analisi, opinioni strettamente separate dalle analisi e dai reportage cerchiamo, in un certo senso anche ci diamo come vanto quello di pubblicare e raccontare cose che in realtà sono molto complesse e la cui semplificazione comporta sempre dei rischi i cui effetti abbiamo visto soprattutto in Italia negli ultimi mesi. difendiamo questa complessità e quindi quello che sentirete oggi non solo è il frutto della descrizione del tentativo di indagine su situazioni complesse, stratificate, piene di sfumature che non consentono interpretazioni bianche o nere, ma è anche il frutto di un lavoro che è da una parte individuale, quello di ciascuno dei reporter con cui parleremo oggi, ma anche collettivo in qualche modo. Siccome questa dimensione collettiva credo che non si possa immaginare, voglio dire due parole su questo anche perché è quello che mi rende molto orgogliosa di fare questo lavoro. La maggior parte delle persone che sono sedute a questo tavolo sono giornalisti freelance che scrivono storie molto importanti per open migration, ma che lavorano anche dietro le quinte, al di là delle storie che scrivono, per tenerci continuamente aggiornati su dove dobbiamo dirigere lo sguardo. Mi viene in mente come esempio quello di Nancy Porsia che è seduta di fianco a me e che vi presenterò fra poco, che ci ha molto aiutato in questi mesi, anche se non ha ancora scritto per noi ma scriverà, abbiamo detto davanti a tutti così siamo sicuri, perché a volte il background che ci serve per far cominciare un filone di ricerca per un articolo, per un reportage, per un racconto anche sul campo o di analisi è più importante, è più grosso del lavoro che poi vedrete nel risultato finale. E nel fare questo ognuna delle persone che sentirete oggi ha un punto di vista basato sull'esperienza, basato sullo studio, molto individuale, non necessariamente qui tutti abbiamo la stessa visione su tutti gli aspetti dell'argomento che affronteremo oggi, però sicuramente la rarità di questo gruppo di lavoro è che pur essendo separati e individuali comunicano, queste persone comunicano fra di loro per il loro lavoro, facendo così anche del riferimento a noi di open migration un valore in più, che è quello appunto del non essere competitor ma essere in qualche modo tutti a lavorare e a cercare di capire una situazione. Situazione peraltro che parliamo di Nord Africa, parliamo di rapporti dell'Italia con alcuni governi con i quali l'Italia sta stringendo dall'anno scorso accordi bilaterali allo scopo abbastanza dichiarato di rallentare il flusso degli arrivi migratori verso l'Italia, ma che in generale corrisponde a una sorta di esternalizzazione delle frontiere europee, con un investimento di danaro molto corposo di cui parleremo fra poco, materia che ha comunque una sua fluidità. Pensate soltanto alla situazione politica in Italia, come è cambiata soltanto rispetto all'estate scorsa quando era il ministro Miniti a gestire la maggior parte di questi accordi bilaterali, pensate all'incertezza sul futuro politico del governo italiano, quindi anche come interlocutore di altri paesi, sono state fatte delle promesse, non tutte sono state mantenute con gli interlocutori dell'Italia. La situazione in Libia è continuamente fluida, continua a trasformarsi, quasi a una velocità che rende difficile tenersi al passo. E intanto sono cambiate molte cose nel giro di pochissimi mesi anche in Niger, che è un altro paese nel quale dovremo andare a posare gli occhi e lo faranno per noi verso la fine di questa conversazione e soprattutto Daniele e Giacomo. Vi introduco i nostri ospiti e poi faccio la prima domanda al primo di loro perché sostanzialmente è un po' la domanda che ci guida. La curiosità che avevamo prima ad iniziare era come facciamo a spiegare che tutti questi soldi, e non sono pochi, che l'Italia e l'Europa stanno investendo nella collaborazione, chiamiamola così per ora, con i governi nordafricani per frenare il flusso migratorio. Come facciamo a spiegare che in realtà questi soldi non si possono introdurre, diciamo così, innocentemente o impunemente in una realtà senza di fatto cambiarla, trasformarla, intervenire su quella realtà, provocare conseguenze. La prima conseguenza, la più facile da spiegare è quella che le rotte monitorate o contenute semplicemente cambiano, si spostano da un'altra parte. Questo è il primissimo esempio che si può fare, inserendo un peso economico in un luogo, quando quel luogo diventa sorvegliato, misurato, monitorato, è frenato, tappato. Le rotte semplicemente sulla spinta anche del desiderio di migrazione si spostano da un'altra parte. Questa è solo una delle conseguenze. Di fianco a me c'è Nancy Porsia, che si è occupata per tanto tempo di Libia, che la conosce da dentro e che è stata anche, pur essendo una giornalista freelance, quindi non avendo dietro le spalle, diciamo una grande testata, è la persona che per prima, anche se non sempre l'è stato riconosciuto, ha raccontato quello che oggi sappiamo e diamo per scontato e tutte le testate usano giustamente come materiale di partenza, che è che una parte, diciamo così, dei trafficanti in qualche modo, qui dovremmo poi decidere che parole usare, ma insomma, trafficanti libici si è riciclato in qualche modo nei ruoli della Guardia Costiera Libica sulla quale l'Italia ha investito in termini di denaro e di addestramento e quale ha affidato una parte di un incarico, insomma, ufficiale, istituzionale. Personaggi, se Nancy riuscirà, vi dirà due parole anche su questo. Lorenzo Bagnoli, anche di giornalista freelance, scrive tante cose per varie testate, per noi ha scritto e scrive soprattutto dell'utilizzo del fondo fiduciario per l'Africa dell'Europa e come viene utilizzato nei paesi del Nord Africa e che conseguenze ha, ha scritto molto anche della Guardia Costiera Libica e dell'addestramento italiano. Daniel Houdin, Refugees Dipli, che non è freelance, lo diciamo, ed è più un amico di Open Migration in un certo senso, è un interlocutore che non è un collaboratore, mi piace vederlo così, e che tra l'altro è appena tornato da Niger ed è appena tornato da Niger insieme a Giacomo Zandonini che per noi ha appena finito di scrivere una trilogia su Niger che parla molto anche di questo, dell'utilizzo del trust fund europeo in Niger, ma anche delle persone e di come i destini delle persone sul campo sono cambiati a causa di questi nuovi flussi economici di questi nuovi accordi. Per cominciare questo discorso, la domanda che non è provocatoria, è proprio una domanda reale che faccio a Nancy Porsia, è se questi soldi, e poi magari cerchiamo anche di dire insieme a Lorenzo quanti sono, sono soldi veri, cioè quando si dice che si danno dei milioni per un progetto sulla base di un accordo bilaterale con la Libia. Stiamo parlando di soldi veri, Nancy. Sì, parliamo di soldi, ma ovviamente questi soldi sono funzionali ad un lavoro diplomatico, la cosiddetta diplomazia che molte volte tende a lavorare su un fronte ufficialmente per risolvere questioni su un aspetto laterale che non viene menzionato molte volte anche su un palcoscenico mediatico. Quindi è un grande lavorio di diplomazia, ma sono soldi veri. In questo senso dovremmo un po' capire che cosa è successo in Libia dalla defenestrazione di Gheddafi, perché in Libia si è avuta una sommossa popolare, qui cercherò di essere molto breve e concisa perché ce ne sarebbe tanto da dire. Molti pensano che sia stata una mossa architettata solo dai governi stranieri, dalle cancellerie straniere come la Francia e quant'altro. Beh, la Nato non è esattamente così. Io personalmente credo che si sia trattato di una convergenza di interessi tra poteri esterni e forze sul territorio, dove, ahimè, comunque i ragazzi, ricordiamocelo, gli eroi sono sempre giovani e belli, quelli che hanno combattuto erano ragazzi mossi dall'ideale della libertà, non sapevano neanche loro che cosa stessero in realtà cercando, la libertà da cosa, da regime, per poi scoprire che in realtà il problema non era Gheddafi, ma era la mentalità, la cultura, però i ragazzi che io ho conosciuto quando sono arrivata per la prima volta in Libia nel 2011 erano ragazzi che avevano davvero negli occhi il sogno della libertà. Da che cosa, appunto, neanche loro lo sapevano, infatti grandi teorici e accademici parlano, nel caso della Libia, non di rivoluzione ma di sommossa popolare. Dopodiché l'Occidente, sappiamo bene, il primo paese interventista è stato la Francia, come dire, ha cercato a quel punto di saltare sul caro dei vincitori e quindi c'è stato il supporto da parte della Nato ai ribelli libici e nell'arco di sette mesi, come dire, i libici che mai avrebbero neanche pensato di poter alzare un dito contro il dittatore, hanno vinto una rivoluzione. Tra l'altro contro un dittatore che nei 40 anni di regime si era praticamente equipaggiato con un armamento infinito. Infatti, il grande problema della Libia dalla fine della rivoluzione è la presenza massiccia di armi. È un paese con una densità di armi più alto al mondo e quindi, come dire, i ribelli si sono impadroniti durante i sette mesi di combattimenti di queste armi e il governo di transizione, post-Ghiddafiano quindi, non è mai riuscito ad operare questa sorta di ritiro delle armi da parte delle milizie. Milizie, un attimo, perché è importante, come accennavi Marina, processare e metabolizzare i termini che usiamo. Quelle che oggi sono milizie ieri erano le brigate rivoluzionarie. Quindi il governo post-Ghiddafiano, il primo governo post-Ghiddafiano, non è mai riuscito a conquistare la fiducia da parte delle brigate rivoluzionarie locali per poter far deporre le armi. E quindi queste brigate rivoluzionarie hanno mantenuto un assetto localistico che si è poi trasformato in potentati locali per poi arrivare alla situazione delle milizie. In extremis i governi successivi, sempre post-Ghiddafiani, hanno deciso di assorbire questi gruppi de facto armati che, come dire, mai generalizzare a seconda della cultura locale, perché poi la Libia, sappiamo, è stata disegnata dai francesi, dai britannici, dagli italiani sulla cartina, ma non c'è mai stato un sentimento nazionale spiccato. E quindi c'è sempre stata una lealtà verso la tribù locale. E questo, ovviamente, quando i governi post-Ghiddafiano hanno deciso di assorbire questi gruppi armati nell'apparato di sicurezza, chiaramente si sono anche presi, assunti la responsabilità di fallire. E hanno fallito. Perché a seconda della regione in cui questi gruppi si sono poi rafforzati, si sono incancrenite situazioni di criminalità, diventata poi mafia, come dire, crimine organizzato. E quindi mafia. Ora, sin da subito l'Europa, come dire, quello che dicono sempre i libici, l'Occidente ci ha aiutato. Mi ricordo, nel 2011, quando sono arrivata in Libia, c'erano proprio grandi tabelloni per tutta la Libia, da Benghazi a Tripoli, con i volti di, oddio, chi c'era allora? Sicuramente Sarkozy, Berlusconi, Bush, Bush nel 2011, ora mi sto perdendo, e Tony Blair, Obama, e Tony Blair, della serie Grazie, vi ringraziamo. I libici ringraziavano i presidenti di questi paesi stranieri per aver supportato la rivoluzione libica. Bene, quello che hanno detto a posteriori libici, avete iniziato, come dire, ci avete dato gli strumenti per iniziare questo grande cambiamento epocale, ma ve ne siete andati quando ancora tutto non era concluso. e ci avete lasciato in balia di noi stessi, nonostante sapeste già che non eravamo in grado di fare fronte al caos. E quindi sì, un po' c'è questa sorta di accusa da parte dei libici verso le potenze straniere. Infatti poi gli europei hanno, come dire, non si sa se è per mancanza di informazioni, forse anche mancanza di informazioni perché magari noi sappiamo di essere molto europacentrici, non riusciamo davvero a metabolizzare delle categorie che non siano nostrane. e applichiamo sempre le nostre categorie europee di democrazia e quant'altro a qualsiasi contesto dove in realtà bisognerebbe porre un'attenzione differente e essere anche in grado di decostruire la propria forma mentis e costruirne una nuova. In quel caso che cosa è successo? Che gli europei hanno iniziato a parlare di business, Infatti nel 2012-2013 la Libia era un formicolio di meeting negli alberghi tra NGO, tanti soldi da parte del mondo straniero. Però, come dire, nel 2013, fino al 2013, come sappiamo, un po' il sogno libico è svanito. Nel senso che dalle elezioni del 2012, che sono andate molto bene in Libia, a differenza dell'Egitto, a differenza della Tunisia, in realtà non hanno neanche vinto il partito dei fratelli musulmani, fermo restando che i fratelli musulmani sono un partito politico che ha diritto ad entrare in Parlamento e non sono terroristi fondamentalisti. Potremmo parlare un po' della democrazia cristiana nostra, se vogliamo. Quindi è chiaro che in Libia addirittura hanno vinto il fronte nazionale, che comunque, vabbè, non si può parlare di laici perché la Libia non è pronta ad un discorso laico, però non hanno vinto i fratelli musulmani. Ovviamente i fratelli musulmani hanno perso e hanno cercato a quel punto di entrare dalla porta sul retro, non hanno accettato la sconfitta ed erano gli unici effettivamente pronti per guidare il post-Ghedafi. Per quale motivo? Perché parliamo di un network non nazionale ma internazionale, quindi preesistente, prestrutturato, in grado di strutturare un programma politico. E quindi sono entrati dalla porta sul retro, sì, immagino che devo andare, devo tagliare, e che cosa è successo? Che a fine, a metà 2013, si sono avuti i primi scontri tra le ex brigade rivoluzionari e che nel frattempo erano diventate milizie e che si erano divise tra i due blocchi, tra il blocco dei fratelli musulmani e il blocco di quelli che l'Europa vuole chiamare laici, ma che di laico non hanno niente. E niente, in quel caso che cosa è successo? È successo che si è andato a seconde elezioni, queste seconde elezioni non sono state riconosciute dagli islamisti, dai fratelli musulmani che le hanno perse, loro sono rimasti nelle loro postazioni, e si è creato questo mostro a due teste, la famosa Libia divisa tra Est e Ovest, con due coalizioni di milizie, solo che da una parte c'è Haftar, la grande coalizione delle milizie, dall'altra ci sono un gruppo e una coalizione molto ibrida, si va dai salafiti, ma anche Haftar ai salafiti, fino a gruppi che io personalmente so essere atei, che in realtà vanno contro i soldi. Che cosa è successo? È successo che l'Europa ha iniziato a parlare la lingua della migrazione, ossia il nostro problema non è capire la complessità della Libia, quella a cui ho cercato di farvi accenno fino ad ora, ma ha cercato di puntare, c'è stato un fuggifuggi generale alla fine del 2013 di tutte le società straniere. Con gli scontri all'aeroporto di Tripoli, parliamo di luglio del 2014, ovviamente anche le ambasciate sono andate via, proprio sembrava la notte dei coltelli, tutti sono scappati, è rimasta solo quella italiana, famo a capisse, voglio dire, gli italiani sono rimasti, non è stato un caso, non si abbandona mai il territorio della propria ex colonia e quindi sono andati via tutti e si è insistito sulla migrazione. Ora, sappiamo perfettamente che innanzitutto la Libia non è negli ultimi, non lo sappiamo, lo dobbiamo dire, questa purtroppo è una cosa che non viene mai analizzata, la Libia negli ultimi vent'anni ha affunto da ammortizzatore economico dell'intero continente africano, quindi in realtà i grandi numeri sono saliti della gente che attraversa il Mediterraneo per via del collasso dell'economia libica. Io personalmente, facendo anche con MSF una missione la scorsa estate, ho incontrato tre infermiere indiane che quando mi hanno vista sulla nave di MSF mi hanno riconosciuta ah ma ti abbiamo visto all'ospedale di Misurata e loro erano in lacrime, piangendo mi hanno detto noi abbiamo vissuto quasi vent'anni in Libia, eravamo contentissime, stavamo benissimo, non siamo venute via per mancanza di sicurezza, stavamo bene prima, stavamo bene, durante Gheddafi stavamo bene anche dopo la rivoluzione, il problema è che l'economia libica è crollata e oggi il dinaro libico non vale più a nulla, il circuito anche proprio del money wire, quindi money gram, western union è saltato e noi ci ritroviamo con una moneta, una valuta che è carta straccia, se prima guadagnavamo mille dinari libici che corrispondevano ai 600 dollari riuscivamo a campare da signori a mandare i soldi a casa, oggi mille dinari libici corrispondono a 200 dollari neanche e a malapena riusciamo noi a mangiare due volte al giorno, parole testuali. La migrazione diventa lucrativa e ovviamente poi voglio dire qui mi fermo perché faccio solo un accenno e poi magari nel nuovo giro, e quindi l'errore dell'Europa è stato quello di concentrarsi sulla migrazione e di non capire che la priorità in realtà era la stabilizzazione del paese stesso, quindi si parlava una lingua che i libici non neanche sopportavano perché loro si sentivano anche non rispettati nel loro diritto ad un futuro democratico, perché è chiaro che poi quando vuoi imporre qualcosa di estraneo come la migrazione, come dire, la cooperazione sulla migrazione è chiaro che vai a parlare o comunque ad interagire con chi non ha a cuore il futuro del paese ma con chi ha a cuore semplicemente il business e quindi poi, come dire, i ministri, tutto l'apparato governativo libico che all'inizio non accettava la retorica europea finta, ipocrita, dei diritti umani sui migranti, alla fine ha accettato perché ha visto che era l'unico modo per far entrare un po' di soldi, i famosi soldi, nel paese perché tanto l'Europa era disposta a mettere sul tavolo soldi solo dedicati alla migrazione. Chiarissima, Nancy. Grazie mille. Non sapete quanto costa, Nancy, se contenersi su un argomento di cui sa tutto. Lorenzo, quanti sono i soldi? A cosa servono? A chi vanno? E da dove li abbiamo presi? A chi vanno? Soprattutto un domandone. Cominciamo da quanti sono. Cominciamo da quanti sono. E sono... La prima volta che è stato annunciato il Trust Fund Europa-Africa è stato alla Valletta, nel novembre 2015, in cui si è detto mettiamo un miliardo e tre, tutti i paesi, dovevano creare questo fondo con un obiettivo specifico che era quello di poter utilizzare questi soldi con una velocità che altrimenti non avrebbero mai potuto avere, perché in qualche modo garantiva l'Europa. Era un fondo concepito per gestire l'emergenza in migrazione. La cosa paradossale che fa capire anche, secondo me, l'atteggiamento che ha l'Europa verso questo argomento è che appunto tutto questo era nato nel Summit Europa-Africa in cui per la prima volta i governi europei si mettevano a parlare con i governi africani dei paesi di provenienza della maggior parte dei migranti e all'ultimo giorno fuori programma del Summit vabbè, annunciamo che in realtà creiamo un altro trust fund Europa-Turchia e di miliardi però ce ne mettiamo tre e contro un miliardo e tre messo per quello europeo. Perché? Perché in quel momento la rotta balcanica era percepita come molto più un'urgenza rispetto a quella del Mediterraneo centrale. Il fondo, il ragionamento di fondo è sempre che si cerca di tamponare il problema più grosso che mette più a repentaglio la reputazione, ammesso che ce ne sia ancora una, dell'Europa e dei paesi che la compongono. Per cercare di capire il ruolo che ha l'Italia in tutto questo bisogna risalire almeno fino al 2014. Nel 2014 è iniziato quello che è definito il processo di Khartoum. L'Italia ha mandato ministro degli esteri e funzionari a parlare con i paesi di provenienza dei migranti. È partita dal corno d'Africa perché all'epoca era quella di nuovo l'emergenza che è la parola chiave per capire tutta questa storia. Anche lì poco importava se si trattava di un governo più o meno legittimo o di una dittatura. Questo non è mai stato un problema. Si parla con chi ci sta. Quindi l'Eritrea per esempio poteva essere un interlocutore legittimo. questo approccio molto da realpolitik ha messo inevitabilmente l'Italia al primo posto in qualche modo a guidare questo genere di accordi. In più il ruolo e la posizione geografica e il fatto che la maggior parte dei migranti arrivi in Italia inevitabilmente ha contribuito a aumentare le azioni dell'Italia nel gestire questo processo. Poi nel 2015 arriva la valletta e l'introduzione dei meccanismi del Trust Fund che nel 2016 inizia a dare i suoi effetti con in più una forma di collaborazione più stretta fra Italia e Libia che prevede la formazione della guardia costiera. L'Italia in particolare ha contribuito di nuovo fin dai primi mesi dopo l'introduzione del Trust Fund con un centinaio di milioni di euro per appunto il Trust Fund di cui 42 per motivi dedicati appunto alla Libia per motivi di sicurezza usando questa formula superlarga per farci entrare un po' tutto compresa la formazione alla guardia costiera. Qual è l'obiettivo di fondo della strategia pensata fin dalle origini da Minniti e non solamente da quando è diventato Ministro dell'Interno è quella di de-responsabilizzare l'Italia cercare di responsabilizzare qualcun altro che può essere l'Europa oppure almeno stando a quello che dice la Libia quando Minniti ha parlato a Camere Riunite il 5 luglio dell'anno scorso ha parlato dell'introduzione prima di tutto di rendere la Libia un paese sicuro e ha parlato di così una roba da niente è sicuro poi per chi vabbè e poi ha parlato di creare un EMARCC anche a Tripoli che cos'è l'EMARCC è il centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio in mare qui entriamo in una delle dinamiche che poi personalmente mi interessa di più perché fa capire come poi la geopolitica come dire ha un impatto diretto su quello che succede a un singolo gommone di migranti ci sono il Mediterraneo il corridoio di mare percorso da tutte queste navi e da tutti questi barconi e barchini che partono dalla Libia è suddiviso in zone che si chiamano search and rescue region SRR ogni SRR ha diciamo una capitaneria di porto e un centro di coordinamento che è responsabile dei salvataggi di nuovo almeno dal 2013 e dal 2014 l'Italia ha sempre avuto un ruolo predominante prima perché i barconi arrivavano fin sotto vicino alle coste di Lampedusa e poi perché l'Italia è il paese con cui la Libia ha parlato sempre di più e con cui la cooperazione è sempre stata attiva in mezzo c'è Malta che è un grande mistero nel senso che Malta ha sempre allargato a dismisura la sua SRR perché una SRR porta soldi perché sono necessari che ti puoi far ridare dall'Europa perché ci sono delle compensazioni per poter gestire le operazioni in mare però non ha mai avuto degli assetti navali in grado di gestire le operazioni sostanzialmente e in più ha sempre avuto dei governi che non hanno voluto mai investire in centri di nessun genere non li chiamo né di detenzione né di accoglienza nessun centro a Malta c'è stato un periodo in cui c'erano dei centri in cui diciamo che il rispetto dei diritti umani era abbastanza dimenticato poi dal 2014 15 praticamente non sono più arrivati i migranti e sull'isola si è sempre parlato di un accordo misterioso tra Italia e Malta in cui sostanzialmente l'Italia avrebbe preso i migranti in cambio della possibilità di esplorare le acque territoriali maltesi in cerca di petrolio a mio personale giudizio è una follia ed è forse non è un caso che l'ultimo a parlarne al Parlamento europeo di questa teoria sia stato Mario Borghezio forse non è esattamente un caso però il dato di fatto è che a Malta non arriva nessuno quindi se su Malta non possiamo contare il ragionamento di Minniti è formiamo i libici per farlo che non hanno un MRCC anche perché insomma gli mancano un'altra serie di cose prima di arrivare a coordinare le missioni di salvataggio un caso emblematico che fa capire la dinamica di quello che succede in mare è l'ultimo che ha riguardato Open Arms a cui sapete è stata sequestrata la nave con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da quello che viene fuori dalle carte giudiziarie emerge sostanzialmente che le MRCC di Roma aveva dato in carico ai libici di gestire delle operazioni di salvataglio in particolare tre eventi e la Guardia Costiera libica era lì pronta a fare pronta in realtà non era lì però in teoria pronta a fare a gestire questa operazione lì c'è stata una corsa in qualche modo a chi si aggiudicava prima i migranti perché l'obiettivo di Open Arms ed è un obiettivo politico e secondo me è un obiettivo peraltro più che legittimo è quello di fare in modo che i migranti non fidiscano in mano i libici che poi li riportano in Libia e il gioco dell'oca ricomincia ma è portarli in un paese sicuro che è quello che prevede le leggi internazionali Open Arms riesce ad anticipare i libici e lì succede quello che succede in diversi episodi con le ONG cioè c'è una minaccia da parte della Guardia Costiera libica tre minuti ok l'episodio gli episodi di cui parlano le carte sono particolarmente interessanti perché ancora una volta le motovedette libiche coinvolte in queste operazioni sono le stesse motovedette che l'Italia ha ceduto alla Guardia Costiera libica in nome di questa cooperazione è qui che c'è un cortocircuito per cui c'è qualcosa che in questo modello non può funzionare si dice stabilizziamo la Libia però in qualche modo non si è ancora capito da che parte stiamo e da che parte e chi sono i libici che vogliamo che diventino i nuovi governanti della Libia pretendiamo che siano in grado di gestire un'emarsi sì e di coordinare un'operazione che altrimenti spetterebbe all'Italia in quanto unico paese in grado sia per gli assetti che ha a disposizione sia per capacità di gestire questo genere di operazioni e il risultato è quello che vediamo cioè addirittura che l'MRCC libico è di fatto italiano esatto l'ultima novità rispetto alle carte giudiziarie è che anche la gestione appunto dell'emarsisi libico sarebbe e del coordinamento dell'operazione libica sarebbe partito da una nave militare italiana e a confermare che questa cooperazione in realtà ha portato l'Italia a stare in Libia a gestire queste operazioni dalla Libia sperando un giorno di poterle lasciare definitivamente appunto solo ed esclusivamente ai libici in questo contesto quindi qualunque asset venga dato alle autorità libiche che siano motovedette o che siano soldi anche solo promessi perché di questi 42 milioni di euro italiani è difficilissimo tenere traccia e capire dove sono finiti e a chi anche solo la promessa destabilizza è quello che è successo per esempio a Sud dove a un certo punto quelli che erano i capi tribù che avevano partecipato alle ai meeting con l'Italia a un certo punto dicevano beh ma che cosa succede che cosa ne facciamo delle grandi parole di cooperazione e delle grandi promesse di cooperazione che che ci siamo fatti con diversi incontri in Italia già quello già l'aver partecipato a dei meeting in Italia ha portato un cambiamento anche nelle dinamiche locali è inevitabile che sia così e ogni volta che c'è un invito a qualcuno a qualche personaggio importante per la Libia a venire in Italia già questo cambierà gli equilibri e ovviamente chi lo fa lo sa benissimo e sa benissimo le conseguenze che questo provocherà grazie Lorenzo è perfetto proprio questo punto per continuare il ragionamento invece con Daniel che conosce molto bene la situazione in Libia conosce molto bene la situazione in Niger è stato in Giordania a seguire anche dei progetti ma la domanda faccio anche a Daniel la domanda for dummies the for dummies question for you Daniel is queste persone these people know how to use this money the people who decide the EU people the Italian people who decide to have this outpour of money tutti questi soldi che vengono impiegati sotto legge di quella che viene chiamata cooperazione sanno cosa stanno facendo che effetti ha I'm gonna we've dealt so far with quite a lot of the detail the history of Libya it's always so hard to decide where to start in order to say anything so I'm gonna go a little bit more to the high level and begin by saying that much to my great surprise we're now living in a golden age of political consensus around development aid for decades development aid was fought over between the political right and the political left professors in Harvard who often knew each other and were rivals would like Bill Easterly would row about whether development aid worked whether it was useless what it did but broadly speaking if you were on the left you were or you considered yourself progressive you believed in development aid if you didn't and you were on the right it was all a huge waste of money what we've seen thanks to migration is most of the political right pile into the development aid space making ludicrous statements about what development aid can be used to do I spent years as a correspondent knocking about in Africa based out of Kenya and development aid was a background story we all remember various different moments of European hyper enthusiasm for raising money for development aid and committing to development aid budgets so I was very surprised in New York 2016 to hear right wing politicians Britain's now Prime Minister Theresa May talking enthusiastically about how development aid could be used to address what she called the root causes of migration because obviously migration is a disease and therefore it must have root causes what she meant by that is that European money finally could be poured into different situations in Africa and it would have the miraculous effect of spurring economic growth and people would decide to sit where they were in any other space and this is passed off as real politic it's some of the most preposterous magical thinking that we're going to see in our generation and yet it's passed off as politicians taking part in real politic so when we talk about development aid let's talk about it very briefly in the instance of Libya and then talk about it in the instance further downstream of Niger so in Libya's case making a sensible argument that you are going to be able to invest in economic growth and economic development in the current security context is largely ridiculous so when you have European trust fund spending it's pretty much channeled through the Italian interior ministry sometimes entire chunks of it just get portioned off to the Italian interior ministry some of us should ask ourselves why Libyan border management funds are being managed by the interior ministry of Italy I think even people in Italy's foreign ministry were quite curious about that too they remember a time when foreign policy was determined by foreign ministries not interior ministers so what you had in Libya's instance was just a lot of money poured into the security sector pursuing the short term goal of reducing northward African migration towards Europe at all costs the results of that were messy and uncertain at the same time there was a possibility to do something much more root and branch in Niger as Niger is probably the most pliable government across the Sahel or through the West African region in Niger you can persuade the government to rewrite its laws you can persuade the government to criminalize the entire of its informal economy in the north of the country if you've got troops you can send them to Niger which is why as it was put to us during the last week it's easier to name European countries that don't have troops in Niger at the moment so you have a situation and you get to see a little bit more of what is meant by the development agenda so those of you who know or have a reasonable grounding in development aid will know that it's dominated by headbanging ideologues on one side and the other one group says that development aid would work if we spent it at a large enough scale and we stopped worrying about the unintended consequences and the other group says the more you spend the worse things become the truth of course lies somewhere in between those two extremes what we're being told now is that development aid can be used in order to achieve short and medium term results in terms of dissuading and deterring northward migration from African states there is absolutely no evidence to support this if you believe that development aid works then you will say the more money that the European Union trust fund spends in order to spur development is going to lead to economic growth in these countries well what's the effect of economic growth even sustained economic growth one of the first things that happens from countries of a relatively low in development index who then take a forward step through development aid is that it increases migration it's a perfectly rational coping strategy if you give a middle class European a sudden surge of income one of the first things that they will likely do is set up a portfolio of different things that they invest in in order to protect their money that might be a car it might be a house it might be a shop it might be something else well in a developing world country an equivalent of that in terms of diversifying your portfolio is to spend some money to set up a small business and probably invest in getting one of your relatives to migrate to a wealthier country so that they can remit and you can diversify the risk that you have so this this is if you believe that European money spent on development in the sub Saharan Africa has an effect it will have an effect of increasing migration so we're in a phase of completely magical thinking about what can and cannot be done in pursuit of a goal which makes no rational sense in the first place I mean what Maniti's agenda is and has been is a reduction in inward migration a sharp reduction the agenda in Niger by some I mean depends on which index you want to look at Niger is either at the bottom or the second bottom of practically every development index you can find so in order to get Niger to collaborate in reducing inward migration and northward migration towards Libya and by extension towards Europe you are then getting its own government to further impoverish the country there is of course huge hypocrisy around the statements on development aid I'll let Jacob talk a little bit more about the detail of this but when let's just take Agadez as an example Agadez is the city that's often lazily talked about as a smuggling hub of the Sahara it was an area through which a lot of people and goods have been transported for a very long time and much of the economy depended on that so since 2015 the law changed in order to criminalize essentially as one European diplomat put it to bring the border of Europe south in line with Agadez so anything that goes north of Agadez is suddenly irregular and illegal and movement north of Agadez is considered to be illicit and you can be arrested for transporting people and you can be arrested or stopped prevented from going any further north the great idea that Europe had for basically retooling reconfiguring an entire informal economy in one of the poorest countries in the world was an 8 million euro alternatives to smuggling program which involves no cash transfers no cash payments in its first phase fewer than 300 beneficiaries who get small business kits so in return for demolishing your own local economy and destroying livelihoods you get a fridge or a cheap Chinese motorcycle or you can get some livestock and you can go into one of the most arid areas of the world and see how you get on as a livestock farmer I say this and give these examples because it is as ridiculous as that and the fact that it's so ridiculous is largely a symptom of how little time and attention care or honest intention there is behind the development programs that we're talking about now the serious money is being sent in the security sector the Niger is going to be a country with internet connected database ready border posts 12% of arable land a population that doubles every 17 years and massive food insecurity it doesn't make any sense the entire thing doesn't make any sense and really largely speaking the reason it doesn't make any sense is because the core proposition the thing that we're chasing the thing that's governing our thoughts and actions political maneuvers is a short term agenda to stop migration the fact is that migration isn't going to stop the support that's been I would I've been wondering and in reference to Libya picking up on what the two previous panelists have been saying there was a time three or four years ago where I genuinely think that from the European side there was suddenly a huge hurry to try and stabilize Libya because it was finally understood that the collapse of the Libyan economy unleashed a tremendous number of job seekers economic migrants refugees in the direction of Europe what we've seen most recently and especially after the CNN reports which I'm afraid we can't get away from discussing the CNN slavery reports is a new narrative around Libya in which Libya is just hell and it turns out that Libya is hell and chaos is also a very effective way of deterring migration so I think we might end up in a situation in which Europe is invested in a false development agenda sub Sahara and north Sahara actually has a rational incentive to continue to fuel instability in Libya on that note I'll hand it over to you Marina it's perfect thank you grazie Daniel anche qui uno degli elementi fondamentali che Daniel ha tirato fuori qui è quello della iniezione di danaro sotto legge della questione aiuti e della questione cooperazione all'interno di paesi che si sostentano sostanzialmente con un'economia quasi del tutto informale cioè non stiamo parlando di un'economia alternativa è l'economia della maggior parte dei nigerini nel caso del niger Giacomo l'ho raccontato benissimo in una trilogia che abbiamo appena finito di pubblicare su Open Migration e lì secondo me si capiscono leggendo le sue storie da niger anche come i grandi destini diciamo la grande strategia influisce sulla l'immediata quotidianità di persone che devono scegliere quale percorso economico seguire d'ora in poi mentre lo scenario intorno a loro cambia come approfittare delle risorse che arrivano come adeguarsi alla nuova situazione e in parte anche perdendo quel poco che avevano cominciamo da qui Giacomo ma la domanda è sempre che effetto fanno poi quei soldi quando arrivano non abbiamo neanche detto se l'accordo con niger sta funzionando sì grazie ne approfitto per aver un po' di foto non dell'ultimo viaggio pochi giorni fa ma ok non so se vabbè le facciamo un po' scorrere ok il tempo è anche abbastanza stretto no siamo giusti siamo giusti di base vorrei partire da una piccola storia proprio dieci giorni fa credo una settimana o dieci giorni fa insieme a Daniel eravamo ad Agadès e una sera siamo capitati in questa casa di un ex li chiamano la burocrazia adesso li chiamano gli attori della migrazione la burocrazia europea per non dire poi chiaramente quando parli negli uffici dei rappresentanti europei li chiamano i trafficanti però c'è un po' questo sfasamento per cui nei documenti ufficiali sono gli attori della migrazione e con cui si indica un termine con cui si indica tutte quelle persone che erano coinvolte in questa grande economia informale attiva soprattutto nella regione di Agadès però non solo per esempio ne vedete alcuni nelle foto e significa dai passeur che sono le figure è un'economia che ha poi delle rappresentanti e delle versi insomma degli impieghi molto definiti al dettaglio che vanno dal passeur che è la persona che in qualche modo ha in carico una serie di attività quindi può gestire dei cosiddetti ghetti o connection house dove le persone vengono ospitate e essere proprietario di veicoli quindi soprattutto di pick up Toyota per il trasporto verso Libia e Algeria ma anche essere referente in qualche modo per chi gestisce la ristorazione chi gestisce l'accompagnamento verso durante la partenza o delle persone a fare la spesa con i mototaxi o i tuk-tuk quindi piccoli taxi collettivi e insomma una serie chi vende i bidoni d'acqua come avete visto chi vende gli occhiali chi vende i passamontagna per attraversare il deserto questi sono gli attori della migrazione a cui si rivolge questo piccolo progetto finanziato dal fondo fiduciario per l'Africa dell'Unione Europea di cui parlava Daniel poco fa progetto da 8 milioni di euro per un settore economico in realtà molto grosso non quantificabile ci sono stime qualcuno dice sono 500 milioni di euro all'anno per tutta la regione di Agades però di fatto la realtà è che si può stimare forse quanto più o meno chi lavorava direttamente con i migranti nell'alloggio nel trasporto e nei servizi per i migranti guadagnava però c'è tutto un indotto che ha fatto sì che ad Agades nel corso degli ultimi anni si siano aperte diverse agenzie di money transfer si siano state aperte diversi bancomat che adesso chiaramente sono un po' in crisi in questo momento e le stesse compagnie di autobus che collegano Niamei con Agades e che collegano poi in parte anche Niamei la capitale del Niger con altre capitali dell'Africa occidentale sono cresciute molto grazie al transito dei migranti e poi sono di fatto alcune di queste compagnie sono anche dei finanziatori delle campagne elettorali e dei partiti al momento del potere in Niger e quindi insomma questo brevemente per dirvi che ci trovavamo una sera insieme a Daniel in una casa di uno di questi attori della migrazione che in particolare aveva lavorato per diversi anni come autista quindi da Agades verso la Libia e trasportando migranti negli ultimi anni soprattutto come molti facevano non siamo giusti ma non è colpa tua insomma eravamo seduti al buio in questo cortile con più o meno una ventina di persone tutti ex attori della migrazione gran parte erano appunto autisti o gestori di questi ghetti che sono queste casette o case con dei cortili in cui le persone in transito da Agades venivano alloggiate in condizioni generalmente molto sobrie in alcuni casi in condizioni anche non ottimali dal punto di vista dell'igiene della sopravvivenza della possibilità di incontrare malattie ecco però di fatto insomma abbiamo per un paio d'ore chiacchierato con loro e un gruppo di persone quasi 300 persone di cui c'erano alcuni rappresentanti che hanno deciso di cercare di riconvertirsi in autonomia hanno detto smettiamo questo lavoro della migrazione perché oggi siamo insomma è diventato illegale quindi da un giorno all'altro siamo diventati ci considerano criminali e quindi smettiamo e cerchiamo di fare qualcos'altro di fatto hanno visto che il progetto dell'Unione Europea che poi è convogliato attraverso tre piccoli progetti in realtà quindi i soldi che vanno non direttamente ma tramite questi contributi con avvio di attività economiche sono meno di un milione di euro poi il resto va tutto in attività diciamo di supporto di creazione di impiego in tempi rapidi con quindi di cash for work cosiddetto altre insomma iniziative di cooperazione abbastanza tradizionale però in un tempo molto rapido che quindi durano un anno un anno e mezzo che è la durata del progetto e poi finiscono e insomma loro hanno deciso di fare cercare di auto-organizzarsi per creare qualcosa da sé e hanno creato un'associazione quindi l'associazione degli ex-passer degli ex-attori della migrazione che non è l'unica però forse quella più grossa e è nata in modo un po' indipendente rispetto a un'altra che è stata sponsorizzata in qualche modo dalle autorità locali e la cosa interessante prima Nancy parlava del linguaggio di come la questione della migrazione sia in campo dello sviluppo è entrata come fattore che mette d'accordo un po' tutti come diceva Daniel e diceva Nancy anche in Libia insomma hanno imparato il linguaggio della migrazione perché comunque hanno capito che da lì si può ottenere qualcosa e questi ex-passer persone gran parte delle quali sono non alfabetizzate prima di fare questo lavoro magari l'hanno fatto per molti anni alcuni dai primi anni 90 quindi da 25 anni hanno passato la loro vita da quando erano adolescenti fino all'altro ieri a trasportare persone e cose attraverso il Sahara e alcuni erano poi come molti che ha un background se vogliamo ancora presente erano piccoli agricoltori o allevatori in una regione però che è molto arida in cui le condizioni sono molto difficili ci sono state dagli anni 80 soprattutto una serie di periodi di eredità e di carestie molto forti quindi insomma diversi elementi che hanno portato poi queste persone a entrare e a lavorare nel trasporto e hanno creato questa associazione che stanno cercando di far riconoscere a livello nazionale e hanno chiamato hanno capito che avevano gli mancavano alcune competenze cioè dovevano scrivere dei progetti per esempio addirittura anche tutti questi ex passor per avere questi 1500 euro dei progetti di riconversione dovevano scrivere un progetto nessuno chiaramente aveva la minima idea penso già personalmente io insomma in teoria ho un livello di studio più elevato difficoltà a scrivere un progetto purtroppo ma figuriamoci una persona che insomma non non l'aveva mai fatto in vita sua ma la pena sapeva scrivere soprattutto in francese e quindi lì poi si è stato un altro business per cui hanno il business di chi scriveva i progetti per gli ex passor che quindi dovevano pagare per poter poi avere qualcuno per poter avere dei soldi però di fatto tornando alla nostra associazione di 2300 persone hanno scritto uno statuto molto bello in cui hanno proprio declinato l'idea della cooperazione che piacerebbe a tutte le cancellerie e ai ministeri europei parlando degli obiettivi del millennio e di altre insomma dichiarazioni delle Nazioni Unite sullo sviluppo di una serie di citando una serie in apertura una serie di convenzioni internazionali quindi secondo me è un esempio interessante perché hanno poi chiesto a questa persona che tanti anni aveva lavorato con un NG che era in pensione di aiutarli un po' a mettere giù qualcosa e quindi è interessante perché poi è un'altra cosa di cui ci siamo accorti che i progetti europei sono progetti individuali di fatto vengono da me da Daniel e dicono ok firmi questa cosa stai smettendo di fare questo lavoro dici cosa vuoi e in realtà loro come ragionano in modo molto di gruppo collettivo e quindi questo il progetto che è nato da loro spontaneamente non sono progetti individuali sono progetti di tipo collettivo poi questo è tutto un grande esperimento insomma per loro per l'Unione Europea per tutti probabilmente è quello che sta succedendo in Niger è proprio che si sta sperimentando qualcosa e quindi chiudiamo grazie grazie mille Giacomo Zandonini grazie Daniel Hauden grazie Lorenzo Bagnoli grazie Nancy Portia leggete openmigration.org e refugees deeply grazie c'è un panel proprio subito dopo questo per questo motivo usciamo tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti